la sua pietra possibile anche un fenomeno fatto un po' fa veramente a cagare c'è io non so cosa serve da capo il tuo gioco vuoi proprio capire cosa serve ti dicevo da distante l'estate migliorato da vicino da la capo no, serve solo se non c'è altri atti, ma perchè non puoi mettere le m4 piuttosto della capo no, quando il minuto la giocata non puoi mettere un po' vettiglia di tene no ma dove le m4 possono mettere le tante altre m4 la capo non so, se ci trovi dato quanto vedo o fai ma che c'è niente, non è perché un'arma fa cagare, non ci deve essere è fatta apposta perché proprio fa cagare proprio perché se non trovi un cazzo, usi quelli e basta è come se trovi la m4da, no? non c'è nessuno, non è possibile no, no, non c'è niente non c'è nessuno a tirare qua però dici che c'è? non c'è scudi come al solito all'inizio mai eccola oh maledetto, bastarda guarda dio cazzo, pompa de merda, non colpisce bene eh ma era una botta o erano persone? non era un botto però no, poi non so mai c'è è difficile qua dice che c'è ancora uno però eh ma qua c'è ma che cosa mi serve? tescio eh insomma è di qua quell'altro eh vedete che c'hai? eh c'è te, sì c'è insomma è di qua quello lì eh l'altro no no è di qua, sto andando di qua il bot andando di là è un bot e ora non manco si ferma più cazzo uno va dritto e basta ah ora me la trovate in mini scudo vaffanculo va un po' di granate dio cazzo non c'è vero ah 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 beh è strano però che in realtà non è come se non fosse venuto nessuno praticamente comunque che è molto strano eh perchè qua di solito c'è sempre gente qua eh tutto un po' eh siamo punto comunque ah ma siamo mezzo 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 da sei proprio mezzo eh c'è non ti dico ma c'è pompa verde quella che ti piace eh adesso c'è quello che ti piace quel altro bot è possibile che non c'è eh ma andato via su ma andato via su e dove? e beh i bot vanno dritti e non si fermano e dove? e beh i bot vanno dritti e non si fermano e basta è così è vero però oooh c'è primo blu qua però ma lo dici? Maledetto non sai che i bot quando gli spari non si fermano cioè quelli vanno dritti e ne frega un cazzo che giuseppe ho visto come titolo cosa ho messo della nave ho messo che giuseppe ma dovete che mi possano bannare se io metto una brutta parola nel titolo secondo te noi vogliamo andiamo e di quale più sceglie cosa volevo dire non mi ricordo più aspetta non mi ricordo più non mi ricordo più po' lasciamo quel che è eh no adesso c'era c'era qualcosa di d'oro mi sembra bevi per me veramente è bello usa no? è vero? questo anno un cito un cito un cito un cito un cito sembrerebbe di no e cazzo di i cazzo e am scuolo 4. io io pito io pizzo io apre c'è un corvo anche a parte non sa che io vuoi se che bianco è che la macchina quando fa che svillucci non lo senti rumore senti tipo brim 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 tipo rumore di diamante non era colorato se non c'era un altro non lo ho visto però più eeeh beh il kit quindi non c'è nessuno qua no no non fai se stessi mi scudono comunque si chiude qua eh si chiude qua vi andare verso l'inizio diciamo andiamo andiamo ma quanti miniscordi ci sono qua oh un po' di munizioni però dove? verso dove? di là? ah eh beh perchè c'era il troppo grazie al cazzo c'era eh 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 c'è più eh eh c'è più eh eh c'è più eh eh c'è più eh c'è più allora eh eh vedi se ne andavamo verso il troppo questo rincontravo gente invece eh vedi qua c'è nessuno andiamo inizioni però eh vai 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 corre corre non fermarti qualcuno è quella casa lì secondo me eh ma c'è un tesoro lì però vuol dire che ecco sto jumpando qua 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 vai 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 sta pienso spider per me porca puttana ma ha massacrato quel fascio di merda no ma peccato tutto a me però non è giusto nooo ma è oh merdo si abbiamo questo qua che mi raccia però ora me lo fai cazzo eh no ma c'è uno qua oh soba 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 dov'è? qua no no l'ho quasi ucciso uno cazzo dove cazzo è andato? uno è qua sotto eh non ti vedo ti pare ma non ho capito e che tutto il fuoco così porco io non lo so sarà quel testo di cazzo lì eh si è quel bastardo eh no 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 questo è un pezzo di merda eh eh è rotto il cazzo questa ho ancora stato sparando con quel cazzo di io cavo è bianco eh eh no basta è rotto il cazzo dov'è? ma è sopra tutto sopra no ha muato sto fuoco di merda era sopra eh adesso non so se è ancora lì qua c'è un kit eh ah l'ho ucciso vengono un colpo e l'altro? no no ma eh no l'altro l'ho ucciso c'è più molto tempo che fa c'è un kit qua eh eh no ma c'ho la pizza qua mia voleva scappare con la scheda del compagno figlio di troia secondo me c'è la ma che bastardo eh c'è pure c'è il coso viola qua eh non ti scudi aveva sto coglione ma non ti scudi aveva ma non ti scudi aveva c'è una mitraglietta blu cazzo cazzo di fuoco bastardo c'è un po' di materiali delle altre cose ragazzi eh 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 l'ho qua sto pronto di insertare non era forte ora non era fortissimo non sono un coglione e che cazzo fuoco l'altro è rimasto sottofermo come per dirlo non mi vedete e invece l'avevo visto l'ho pottuto la grande proprio oh qua c'è 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 tre scudi grossi avevo questi qua ma comunque qua sono entrati c'è roba ma qua c'è due tesori qua sotto lo sapevi? e quel dato ho sparato solo col codio non so che lo dico che erano dei coglioni era un coglione è bello che stava scappando alla fine a meno che l'ho visto ci mancava un colpo ho sparato un colpo da un colpo e è morto di quanti munizioni c'è? sono al massimo c'era un bordello di munizioni sti coglioni è morto un animale qua davanti eh potrebbe esserci qualcuno però sei dubbio che non è quello che mi ti ha detto c'è 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 cinghiale maledetto andiamo sopra la montagna allora ci posizioniamo prima a sto punto scusa c'è c'è ma qua hanno uccisi il bot qua vediamo la giamba ah vedi che c'è la giamba è vero che c'è la giamba però eh sento che non c'era c'è uccide ah non c'è chi ha sparato? il bot ah ma c'era allora io si ecco sento ah no è il bot vaffan no che daaa ahahah eccoli laaa ah ecco qua qua sono qua oh ah uno lo ucciso eh ah io lo ucciso quello che si stava curando come si impara ragazzi no ma sono altri due quelli eh ma sai tu che crei cosi si ma dov'è il compagno di quello che ho ucciso io però eh non era uno comunque eh ecco uno che ho ucciso si minchia però sei tu sai che il compagno di quello che ho ucciso eh ah no forse è difficile ma è incappellato cosa che stava facendo oh ma qua c'è lo spruzzino grande io rimanerei qua c'è lo spruzzino grande qua eh è i primi scudi lo spruzzino grande che vuol dire lo spruzzino ma vuol dire che arrivano di qua quelli coglioni però eh aspetta fanno vedere dove stanno c'è lo spruzzino grande io creo si si vai 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 uno è qua eh io sparo quello ma perchè non lo piglia? a me è troppo distante fosse boh non lo piglia ragazzo oh oh dai no sto non andò dai sotto sotto a me c'è la cosa davanti si vabbè che cazzo è ancora lì forse è entrato dentro la grotta secondo me vuol fare il giro da dietro eh secondo me vuol dire aiuta vabbè lascia lo li no dai, io catti oh oh ah ecco sta salendo da te tutti te ah sono in due è in due minchia uno è crackato questo qua no è bianchissimo però adesso si stanno curando bastardi però lo massacrerò come lo massacrerò ma se devi usare il coso usalo no mi sparo uno da sotto anche eh non sono quelli la di prima bastardi no mi fa cadere tutti oh ha rotto il c***o dove c***o è andato ah eh quelli la fanno il furgo ah gli sparano anche da la questi mi parano i miei stratelli di qua ma dici che da dietro la montagna ti possono fare il giro o tu stai guardando anche dietro spero perchè quello potrebbe venire da dietro eh si ecco ecco sta uscendo adesso è rimasto è rimasto c***o dai però no non chiama davanti eh ma mi sparano quegli altri ho paura però comunque stanno qua quelli la eh non sono messi minchia sono barricati ah ora voglio vedere ah sono morti perchè sono barricati qualcosa non sono dentro ah no sono usciti bastardi che c***o sono andati e devo eccoli qua ma non male che munizioni ne avevo ho una qua ho una che c'è spuglio l'ho visto eh che è entrato la destra un altro che c'è troppo ah ah vedi che ha creato il coglione non l'ho preso però vedi aspetta ma fargli poco però ah uno è morto di me è troppo da prendere mi servirebbe troppo a me aspetta ho paura che quello mi ci spara da ah diacchissimo quello eh oh diacchissimo eh sto sparando le munizioni però io eh no ma capito ma chi è che sta colpito? eh ma continua a colpire spruzzino da ma non posso più prendere vedi che t'altri due lì che sta usando la corna guarda per troppo ma siamo dentro qua ma qua se cadiamo non si ammazzano ma quella colpire tantissimo eh ah guarda quello guarda quello no 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 ma non può prenderlo mai eh qua c'è un altro troppo qua siamo sicuri no ma se accato qua sono morto io eh devo un attimo scendere di un po' perché se no non continui materiali che spero quindi ma io ho preso il materiale te lo dico eh io spero che ci spavano tra di loro e perché soprattutto ma che se neanche un freddo ma dovrei morire ma quando dovrei morire di 44 quello io ho fatto bianchissimo da un poco io ho fatto 44 4 scopo di cintro adecchissimo tutto sotto il barregate per ora quando troppo apaccio perciò la mano c'è se curato ma non sto curando facciamo ancora 2 ma sono altri due la dentro C'è 9 io ho fatto Ah no, devo uscire No, merda, scendi, scendi Che cazzo è che stanno lanciando? Che cazzo è che stanno lanciando? Drop Non prendi il drop No, aspetta che cosa faccio? Stanno dove a pushare Uno qua c'è Stai curando Una No, ma cosa è ucciso? Eh, vabbè Stardo Dove è? Mi devo curare, sono andato a me forse Mi devo curare per forza, sennò sono morto No, tu dove sono? Eh, non lo so, sotto Dai Cazzo mi sparavo l'altro No, tu vuoi fai un cazzo Ma stavo curando, ti ho detto Dove sei? Ho detto mi stavo curando Oh, qua, 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 tu puoi curare, puoi curare Non lo so che posso curare Ho detto mi stavo curando Ma non ho vita, non so nissimi qui Ma no, 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 non so nissimi Non ho capito Po due, cosa, eh Tu non ne hai viva, con la pizza Oh, c'è la pizza, c'è la pizza C'è la pizza No, attenzione però, eh L'ho battuto, l'ho battuto uno, eh Eh, mi spado Dov'è? 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 Li, li, li Non lo vuoi curare Oh, qua, qua, qua No, 34, 34, bianco, bianco, bianco papà c'è riuscito a uccidere, non avevo vita però